e Luigia Luciani Torniamo a parlare di cose serie dopo questa pagina doverosa comunque su quello che è successo in Rai quello che sta succedendo a questa cosaccia sulle donne dell'est da preferire alle donne italiane Allora con noi la ringraziamo, c'è la Presidente della Commissione di Lavori Pubblici per Roma Capitale Alessandra Agnello, buongiorno, buon pomeriggio Buonasera a tutti, salve Ecco, come va? Tutto bene? È partita l'operazione Strade Nuove, che cos'è esattamente? Strade Nuove, sì, diciamo è una manutenzione delle strade, ci devono dire grande viabilità come ho detto più volte le strade si dividono in grande viabilità che cura il Dipartimento Lavori Pubblici Roma Capitale, viabilità ordinaria che spetta ai municipi Qui parliamo di grande viabilità e sono delle realizzazioni su manti stradali particolarmente ammalorati Ammalorati, lo spieghiamo, è un termine tecnico che vuol dire degradati Esattamente, quando si vede quella rete, quando il bitume, l'asfalto fa quella rete E quindi poi si sfalda e da lì diverse buche prendono vita Quindi sì, sono partiti importanti lotti 85 milioni di euro, giusto? Questa è la cifra 85 in totale, sono partiti e sono in attuazione i primi 6 milioni e 7 circa E in più si stanno aggiungendo altri 12 milioni Quindi di quell'importo che lei ha detto sono le prime gare per certi importi Ecco, siccome ha detto la grande viabilità, ci puoi fare un esempio? Cioè dove si interverrà concretamente? Guardi, i cittadini già possono vedere grossi tratti ad esempio di Acqua Fredda Via della Magliana e anche via della Pisana Questi sono già stati fatti nei giorni scorsi Inoltre un intervento molto importante è stato un grossissimo, lunghissimo tratto della via Abbia E anche di Furio Camillo E quindi insomma sono sotto la portata dei tutti Vedere i lavori che Luma Capitale sta mettendo in campo Inoltre anche un grosso intervento importantissimo è stato fatto a Bermiglio Spalla Del municipio Ottavo Dove appunto era difficilissimo il transito delle macchine Proprio per una presenza di buche e profonde fenditure E anche questa strada è stata portata a termine in questi giorni Insomma, sono strade abbastanza importanti E' importante, allora una cosa, qual è la garanzia? Allora qua si dice adesso sono lavori fatti bene, puliti, efficaci Questo l'ha detto, l'ha scritto la sindaca Raggi in un post su Facebook Ecco, lavori fatti bene, puliti, efficaci Allora qual è la garanzia? Io lo chiedo perché è importante secondo me Che dopo qualche mese non ci ritroviamo con le stesse situazioni La spiego perché in realtà a Roma c'era, prima che arrivasse noi Io spero vivamente che le cose cambino C'era questa brutta abitudine Cioè che i manti stradali che altrove duravano, che ne so, cinque anni Qua se duravano cinque mesi era pure troppo Era talmente la regola che molti di noi hanno cominciato a pensare Che ci fosse il trucco in qualche modo Che fosse interesse farli durare poco per fare spesso dei lavori di manutenzione Ecco, a lei risulta che fosse così? Guardi, risulta a me ma può risultare benissimo A che qualsiasi cittadino che magari va a trovare vecchie E non tanto vecchie informazioni su internet Purtroppo gli appalti del Dipartimento Simu del 2015 Sono stati attenzionati dalla magistratura Proprio per questo fatto Perché gli appalti venivano fatti male Ovvero non veniva steso l'asfalto che era previsto in gara Lo spessore Lo spessore Esattamente Ed è tutto lì Invece con queste gare Appunto A parte ci tengo a dire che Oggi il Dipartimento ha fatto un grosso lavoro Perché sono arrivate per ogni gara in corso Tantissime lettere di offerte E quindi c'è stato un grosso confronto competitivo E in più dobbiamo sempre ricordare che c'è un pool di tecnici Sempre del Dipartimento Che andrà proprio a controllare i lavori fatti E qui è la chiave di volta che si è voluta dare E quindi sono... Ecco perché veramente noi avevamo fatto i complimenti A chi aveva fatto i lavori Qui sulla Bufalotta È la strada che sta proprio sotto la radio Quindi per questo dovremmo vederle tutte Però prendiamo questo come punto di riferimento Perché là sono stati fatti dei lavori Che riguardano la cablatura Dei servizi Insomma i sottoservizi Si chiamano così I sottoservizi Poi era stato rifatto l'asfalto E per la prima volta per quanto mi riguarda Avevo visto che prima di mettere sopra l'asfalto Era stata messa una guaina bianca Che serve ad isolare dal sottofondo E che dovrebbe far durare di più l'asfalto Le risulta questa tecnologia signora Lagnani? Sì 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 È una tecnologia che già insomma nel nord Italia Nel resto d'Europa Nel nord Italia già era in uso E che Roma Capitale sta adottando Proprio per fare un manto più liscio Più liscio E che debba resistere di più Allora la domanda Però la cosa che voglio fare È che in realtà questa copertura Dopo pochi mesi Saranno quattro mesi È già tutta screpolata E sta venendo via Perché se uno va a vedere È proprio quello che diceva lei Cioè sì è stata messa la guaina Ma è stato messo uno strato di asfalto Veramente sottilissimo Sottile Sì 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 Ma questo noi abbiamo conoscenza di questo Tra l'altro devo dire Che l'ultimo asfalto È anche fatto in un'altra modalità Molto innovativa Cioè si stende addirittura Una foglia di bitume molto liquido Di modo tale che L'ultima stesa di manto stradale Si attacchi meglio E pensi che sono stati i propri cittadini Ad accorgersi di come veniva fatto Questa stesura Proprio sull'intervento di via Appia Quindi voglio dire Anche in questo settore Si è alla continua ricerca poi Di una modalità migliorativa Che duri più a lungo Però rimane sempre il fatto Che i precedenti appalti Comunque Come dire Erano stati Insomma Portati avanti Non eseguendo A regola d'arte I lavori E comunque Su questo punto Ripeto Ci stiamo lavorando Con questo pool Di tecnici Che sorveglieranno I lavori E quindi Verranno poi Fatte delle campionature E da lì In caso La ditta Non abbia ben Fatto il lavoro E appunto A regola d'arte Allora lì Si richiamerà appunto Le clausole contrattuali Brava E questo Cioè Se tu dopo quattro mesi Mi lasci la strada Che si sta di nuovo Spaccando tutta E la devi rifare te A spese tue Ma certo Ma certo Ma certo Guardi Già nel corso Della nostra Consigliatura Già è successo Qualche volta E la ditta È stata richiamata Prontamente Tra l'altro Lei prima parlava Anche di Degli scavi Di pubblici servizi E anche lì Appunto Le ditte Insomma Vengono richiamate Quando non viene rifatto Perfettamente L'assalto Dopo un intervento Di capri Insomma È cambiato Questo atteggiamento Cioè adesso Invece che sulla collettività L'eventuale Problema Viene scaricato Su chi ha fatto male Il lavoro Ma certo Certo Anche perché Lo prevedono Le clausole contrattuali Che diciamo Forse Forse Non sono state Negli anni passati Ben utilizzate Applicate Cioè c'erano anche allora Ecco C'erano anche allora Le clausole Ma non venivano mai Esatto C'è una garanzia prevista Dal codice Degli appalti Anche dal vecchio codice Andato in pensione Nel 2016 È stata sempre prevista La garanzia Che però Evidentemente Non era utilizzata Eh sì Oh Intanto vediamo anche le immagini Sui nostri canali televisivi Utilizzate anche la app Mi raccomando Perché vediamo Com'era Via della Magliana Questa è una foto Che è stata pubblicata Proprio da Virginia Raggi Sul suo profilo Facebook Prima Prima dei lavori E dopo I lavori La differenza È evidente E a questo punto Dovrebbe durare tanto Immagino No Perché poi Speriamo di sì Insomma Noi speriamo certo Ora vediamo Poi casomai È peggio per chi Ha fatto male il lavoro Ecco Tanto per Esattamente Sottolineare ancora una cosa Allora dunque Arrivano messaggi Al 3775 104 500 Non so se può Se può rispondere Diceva Potete chiedere Non è l'assessore È il presidente La commissione dei lavori pubblici Roma capitale Alessandro Agnello Le davano dell'assessore Però Mai dire mai Insomma Ecco questo No Mai dire mai Allora potete chiedere Insomma Al presidente Se può dirci Quando partirà La costruzione Della rotatoria Alla Giustiniana Nel quindicesimo Municipio Grazie da Gianmarco Può rispondere A questo No Non saprei Dovrei prendere Informazioni No Oh tra l'altro In quella zona là È successa questa cosa Più o meno In quella zona È successa questa cosa Assolutamente incredibile Del cinghiale Che è stato tamponato Da uno scuterista Che ha provocato La morte di questo signore Dei 49 anni Ma queste cose qua Dei cinghiali Che invadono Le strade di Roma Ma come È inquietante Eh lo so Ma non solo Le ricordo che sono state Anche avvistate Nelle periferie Ma sempre Roma è Anche le volpi Eh sì Eh le volpi però Non ammazzano Se vai a sbattere Se vai a sbattere Contro un cinghiale Ti fai molto male Purtroppo Il signore Di 49 anni Eh lo so Lo so Abbiamo saputo Abbiamo saputo Sì C'è Gli animali Si si avvicinano Alle città Ormai O sono le città Che si sono avvicinate Troppo Però bisogna prendere Le provvedimenti Insomma Ste cose qua Dei cinghiali In giro per Roma Non è una cosa bella Immagino No Si può dire così No 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 A parte insomma Che l'animale È pericoloso Anche se Tente a proteggersi Pure lui Insomma Per le persone E come abbiamo visto Purtroppo anche Per I motorciclisti Insomma Potrebbe essere anche Una macchina Si 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 stanno prendendo Provedimenti Oh allora Le chiedono dunque Via Laurentina Però qua si dice La luce La luce non dipende da lei Sono cinque anni che manca Ma chi le deve ripristinare La deve ripristinare Allora Guardi Sulla via Laurentina Non so se la persona Che ha scritto Ha fatto un distingo Dal Gra Verso Roma È sicuramente Roma capitale Quindi il dipartimento Simu E Acea Invece dal Gra Fuori Roma È città metropolitane Dipende Ne deve rispondere Insomma Lei L'ex provincia Per farlo capire a tutti L'ex provincia Allora Luca che dice Tra l'altro io abito Da quelle parti Quindi è pure interesse suo Chiaramente Perché è pericoloso Non avere la luce Allora dunque Sto passando su via Erminio Spalla L'ha citato lei Non è vero che è stata rifatta tutta Ma solo in parte Scrive Luca Certo esattamente Quello che io ho detto all'inizio Guardate che rifare tutta una strada Vuol dire manutenzione straordinaria E che comporta tutta una serie di interventi Questa è manutenzione ordinaria E che quindi riguarda grossi tratti L'ho detto prima Tratti particolarmente ammalorati Chiaramente questi sono stati verificati prima I tratti che potevano essere più dannosi Per le macchine Per i motociclisti E quindi sono stati appunto Posti in essere gli interventi su quei tratti La differenza con il passato È che non si va a ricoprire la buca E che quindi poi si risfalda Con le prime proggio Con il traffico pesante dei mezzi Ma si sono fatti appunto Lunghi tratti con Praticamente lo stesso intervento Che si sarebbe fatto Se fosse stata manutenzione straordinaria Io questo ci tengo a dirlo Non sono rifatte tutte le strade Ma i tratti Alcune volte anche prezzo Insomma lunghi Di pezzi ammalorati Quindi attenzione Io questo lo voglio dire Perché a noi Siamo chiari insomma Certo Allora Qualche altro messaggio La ringraziamo per la sua gentilezza Dunque Eccolo qua Buonasera Presidente Scrivo dal decimo municipio Quindi ecco Il nuovo codice degli appalti Non è un codice degli appalti questo Vabbè Comunque prevede interventi anche in questa zona Scrive Claudio Sì 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 Devono Sono previsti interventi Anzi Sono previsti interventi Per quanto riguarda L'altro appalto di cui le parlavo Dei 12 milioni Che appunto è suddiviso in lotto E quindi per municipi Ed è stato da poco aggiudicato Proprio in lotto Che riguarda La viabilità Del nono E decimo municipio Quindi La grande viabilità anche di Ostia Verrà Fra poco insomma Posta anche lei Agli interventi Delle ditte appaltatrici Oh dunque Questo qua Chiudiamo con questa segnalazione Poi le faccio l'ultima domanda Volevo segnalare che Dunque Via Trionfale Altezza Circonvallazione Trionfale Da qualche giorno Una ditta Che si chiama? Italian Ma non credo che si chiami Italian Una ditta Sta facendo dei lavori Hanno coperto il manto stradale In maniera molto discutibile Vabbè Ma voi Fate Tenete Controllate Sì Sì Guardi Io Insomma Proprio da poco Sono stata A parlare con i tecnici Proprio che fanno questo lavoro Sì Loro Vanno in giro E controllano i lavori Fatti E le ripeto Se non vengono fatti Appunto poi si richiama la ditta Sì sì Molto bene Ora me lo segno Sono curiosa Perfetto Molto bene Dunque Nel salutarla Ma domani c'è un consiglio comunale Che cito a memoria È destinato a discutere Degli ultimi sviluppi giudiziari Che riguardano l'amministrazione Come riportato dalla stampa È giusto? Più o meno le parole sono queste? Sì sì Dovrebbe essere Diciamo che una risposta Ad una interrogazione Ah ok Risale pure a qualche tempo fa Quindi non so Se ne devono discutere Perché tra l'altro I presidenti dei gruppi politici Se ancora è valido Ok Perché domani non c'è neanche Virgina Raggi Che sarà negli Stati Parte per gli Stati Uniti Ce l'ha detto qua No vero? Parte? Se non ricordo male Credo di sì Guardi Io sono stata chiusa Le dico la verità Appunto al Dipartimento Simo Quindi Non sono aggiornata Sulle ultime notizie Guardi l'ultima proprio Perché questa è interessante Buonasera Si è pensato a mettere la garanzia Sui lavori del manto stradale Alle aziende appaltanti Grazie da Federico? Sì perché l'aveva detto prima No? Sì 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 C'è la garanzia C'è la garanzia È prevista per legge Ma quanto devono durare? Quanto deve durare Il manto stradale Secondo questa Diciamo Chiamiamola così Garanzia Ma guardi La garanzia È Fino a 24 mesi Quindi Almeno due anni Le clausole Le clausole contrattuali Che richiamano anche le penali Ok Quindi Per almeno due anni Non si dovrebbe fare neanche Un lavoro Zero Niente Proprio Beh oddio Se sono fatti bene Certo Ma se non sono fatti bene Dipende da Si richiama la ditta Si richiama la ditta Che li ha fatti Per Metterci le mani Mi sembra molto giusto Speriamo bene Perché qua insomma Poi siamo tutti Utenti delle strade Romane Vederle in questo stato Insomma È veramente Triste Nonché Nonché pericoloso Ecco Questo L'elemento fondamentale È anche la sicurezza Allora Grazie al Presidente Della Commissione Lavori Pubblici Roma Capitale Alessandra Agnello Grazie di essere stata con noi Grazie a voi Grazie a voi Buona giornata Grazie a voi Grazie a voi